potere anche condividere sostanzialmente quel po' di piacevole convivialità. Grazie. Grazie. E' saltato il collegamento. Beh, intanto buongiorno a tutti e a tutte. Grazie. Da un secolo e mezzo, anzi, fin dalla morte di Mazzini è iniziata questa opera di riflessione. E oggi, sperando che si riesca a ripristinare questo collegamento con Roberto Cresti, avremo appunto le relazioni di Roberto Cresti, che è docente di storia dell'arte contemporanea e storia dell'arte del Novecento a Macerata, di Laura Piccardo, dell'Università di Genova, esperta di storia del risorgimento e di storia dell'Europa federale, se posso concedermi così una titolazione di merito. Fulvio Conti, professore di storia contemporanea, preside dell'Alfieri di Firenze e che ha appena scritto un libro di grande successo su Dante, l'identità della nazione, e quindi ci parlerà in qualche modo del paraponte tra l'idea di nazione Dante e Mazzini. E poi Pietro Finelli, che è il direttore della Domus Mazziniana, ci parlerà dell'umanesimo rivoluzionario di Giuseppe Mazzini. Siamo riusciti a ripristinare il collegamento? Sì, io ci sono. Bene, bene. E allora mi trattengo da fare alcuni commenti sull'insieme di queste relazioni e darei subito la parola a Roberto Cresti. L'accordo è di 25 minuti per ciascuno di voi, così riusciamo, anche se saremo in pochi, ma è tra noi, a discutere di ciò che ci raccontate. Prego, professor Cresti. Grazie, grazie Presidente. Un saluto a tutti i colleghi convenisti. Dicevo prima, vi parlo dall'Università di Macerata, che è la mia università, ci sono qui gli studenti, e avevo a cuore il farvi questa comunicazione, anche se in realtà appunto gli impegni di lavoro mi hanno impedito di venire a Padova e di condividere, come accettavo, non so se sia arrivato prima, prima dell'interruzione, di dirvi anche quel po' di convivialità che è fondamentale anche in questi incontri. Allora, il titolo, Risorgimento alla macchia, a cui ho messo poi anche un sottotitolo anonimo mazziniano, ecco, è una riflessione che ho fatto a partire da un testo molto famoso dedicato a Mazzini da Giovanni Pascoli, cioè l'inno secolare a Mazzini, che appunto è stato scritto per il centenario della nascita. Mi interessa questo fatto perché propone una dimensione di Mazzini che è di carattere metafisico, questa è la ragione per la quale la prima immagine che vi propongo, è la famosa, famosissima, acquaforte di Luigi Calamatta, Giuseppe Mazzini con lo sfondo naturalmente, di Roma a fianco di William Blake con la scala di Giacobbe, e nel sogno la visione degli angeli che salgono e scendono in realtà da e verso Dio. Ecco, perché il tema fondamentale, l'aspetto che forse può in un certo qual modo sorprendere è che di fatto Giovanni Pascoli sposa proprio questa dimensione di Mazzini come si direbbe un'eterna individualità, una sorta di essenza addirittura creata alle origini stesse del mondo manifesto. Ecco, e colpisce leggere naturalmente cent'anni, che significa cent'anni la ricorrenza naturalmente della nascita, «Tu nell'evo eri degli evi, come lontano, chi poteva ederti? Tu quando ognuno ancora viveva, vivevi. L'Italia era vulcana, era deserti, non c'erano impensosi umani anelli, c'erano sì le oscure selve inerti, a quando si muovevano gli steli, le foglie, i rangi, gli altri, al passaggio di un imprevviso spirito dei cieli». Ecco, questo credo che sia proprio un dato fondamentale, cioè sostanzialmente non discuto qui la questione in termini ontologici, ma certo l'idea che Mazzini sia una funzione, sia una modalità di esistenza all'inale del personaggio storico. Questo è il modo in cui appunto Pascoli ci propone la figura di Mazzini, al punto che ho messo proprio questo angelo della rivelazione di William Blake in una dimensione appunto di pre-romanticismo e di romanticismo, per dare proprio l'idea di una sostanza mazziniana che ha questi caratteri metafisici. E ancora continua, Pascoli, c'erano i fiumi, sono lenti, a raggio del sole, incerti, nell'errare al piano, dove mai fosse il loro mar selvaggio. «Ed ecco un cupo rimbombare lontano, la piena, i massi, i morti, i neri pini, sereno al piano, ai monti l'uragano, sui monti in alto, c'eri tu, Mazzini». Ecco, questa cosa di uno spirito alto, naturalmente, quindi significa una dimensione romantica, significa, commesso per questa ragione, il viandante davanti al mare di nuvole di Caspar David Friedrich, perché è come se si facesse vedere la stessa dimensione di una appunto di eterna individualità o di un mio che comunque sovraste il mondo. Beh, questi sono stati poi gli inizi reali di Mazzini, come, diciamo, pure ha detto del romanticismo, con tutti i miti, dal primo romanticismo tedesco, ai romantici francesi, c'è tutta una fase sostanzialmente in cui, peraltro, anche la persona, Mazzini, si forma con le sue suggestioni, poi la folgorazione nella lettura dell'Ortis poscoliana, l'editura di identificazione con quel personaggio, anche questo è un altro fatto che l'ha tenuto presente. Ecco, però i tempi dovevano cambiare, i tempi non erano quelli, appunto, di chi potesse stare in cima a una montagna a contemplare la realtà, ma il tema essenziale poi, che diventa essenziale nella vita stessa di Mazzini, è proprio la discesa, si potrebbe dire, da questa posizione romantica verso una dimensione che, invece, si fa storica. Ecco, allora, chiamiamola eterna individualità, chiamiamola l'essenza, chiamiamola come volete, certo è che a un certo punto chi stava in cima a qualsiasi titolo di una montagna o comunque in una posizione di esclusione, progressivamente entra invece nella storia. Ed entra, fra l'altro, proprio, e questa è vita di Giuseppe Mazzini, attraverso le esperienze rivoluzionali più radicali, tra le quali va sicuramente contata la rivoluzione, è vero, del 1830 in Francia. Ecco, vedete che quello che stava in cima alla montagna, secondo Caspar de Riffrit, in questo famoso dipinto, che, tra l'altro, è stato proprio eseguito nel luglio del 1830 da Eugène de la Croix, quindi mentre era in corso la rivoluzione, a Parigi è diventato un protagonista di questa rivoluzione, addirittura con tanto di trombone. Quindi l'idea è proprio quella della discesa, di essere entrati nel corso della storia. Se, se non devo certamente ricordarvelo io, teniamo conto della vita stessa di Mazzini, questi sono momenti decisivi. Perché sono momenti decisivi? Beh, intanto, dalla laurea nel 1927, l'adesione alla carboneria fino al 30, però poi la detenzione, proprio nel 30 e 31. Nel 31, la fondazione della Giovane Italia, l'inizio, quindi, di tutta l'attività, la cospirativa, la dimensione internazionale. Sono momenti in cui realmente quello che era stato forse da lungo, naturalmente un po' un sognatore, e anche con molta attenzione ai dati della realtà, un uomo che stava relativamente dentro le cose, diventa sempre più, viceversa, un protagonista del suo tempo. Quindi l'idea di vederlo idealmente tra queste varietate è un modo per vedere anche un'evoluzione di quella individualità, dall'anima bella, romantica, a militante, che in realtà è politica. Ecco, questo mi sembra il dato importante, proprio rilevante. Poi, posso ricordare ancora, naturalmente, per quello che riguarda le vicende di quei decenni 30, che si è seguito, ecco, beh, certo la fondazione della Giovane Europa nel 1834, e poi, per quello che riguarda Mazzini in particolare, la scelta della lontananza dall'Italia e addirittura i trasferisti all'Italia a Londra nel 1837. Momenti straordinariamente fertili, di polemiche, di studi, ecco, che hanno, e questa è la cosa interessante, una traduzione sulla quale va veramente portata l'attenzione in un articolo scritto al 95% in francese e in piccola parte ha avuto in eredità, poi, per quel che riguarda il tempo successivo, con la parte finale in inglese, che tradotto però in inglese, quindi scritto in francese da Mazzini, viene pubblicato sulla London and Westminster Review nel 1841. È importante questo articolo, vorrei segnalarlo, non è certamente un primo intervento, ci sono stati altri, appunto, importanti, anche saggi, scritti più, però, nell'ambito della letteratura, sul dramma storico, che addirittura è dei dieci anni prima, hanno portato gli interventi sui scrittori, naturalmente sui filosofi, ma, insomma, nel 1941 esce questo strano, che francamente è un po' strano, scritto, in cui si trovano distillati tanti elementi del pensiero marziniano messi insieme alle arti, associati alle arti. Ecco, questo, ora sappiamo che il marziniano musicista, la sua attenzione alla letteratura, all'umanismo, potrebbe dire in generale, ma qui proprio c'è una focalizzazione sulle immagini, ed è un saggio molto bello, molto bello, che, lo dico subito, esce nell'anno in cui Mazzini comincia a scrivere i doveri dell'uomo, perché questa è anche la cosa interessante. La redazione finale sarà nel 1860, ma i primi quattro capitoli vengono scritti a seguire dal 1841 in avanti, e quindi è curioso che ci sia questo legame, in realtà, fra uno scritto sull'arte e di storia dell'arte italiana moderna e il libro fondamentale di Mazzini, che è il doveri dell'uomo. Quindi, quali sono i passaggi? Ci sono questi elementi, sostanzialmente? Sì, ci sono fortissimi, perché in questo saggio, insomma, Mazzini parla sicuramente dei pittori, parla di una dozzina di pittori del suo tempo, più o meno del suo tempo, tra cui va ricordato Francesco Aiez, e naturalmente vedete che, ad esempio, cita Pietro Leremita, Predica la Crociata, che è un dipinto di Aiez del 1829, perché è chiaro che la predicazione era la sua predicazione, quindi anche qui c'è una dimensione, non sono le barricate, naturalmente, non sono ancora, vedete che del 1929, sono le barricate del luglio del 30 a Parigi, ma c'è questa idea di mobilizzazione, quindi che parli di questo dipinto in particolare, un po' retroattivamente, nel 1941, attesta che evidentemente c'è una immedesimazione con la figura di Pietro Leremita e con l'idea di una crociata laica, che chiaramente è quella, appunto, ispirata al repubblicanesimo e tant'altro, quindi ecco l'idea di una pittura che diventa militante. E poi ancora, qui sempre, in questo saggio, si leggono le cose fondamentali, cioè dice Mazzini, è la verità e non la semplice realtà che costituisce per essi, per i pittori che Mazzini associa alla scuola moderna, italiana, in cui vede il primo rappresentante in, appunto, Francesco Aliez, è per essi, cioè la realtà, la storia, non solo, ma dice ancora, e qui c'è qualche cosa di personale, io credo, dietro la maschera di Aliez, ossia Francesco Aliez, non è né pagano, né cattolico, né eclettico, né materialista, è un grande pittore idealista italiano del XIX secolo. Il secolo gli dà l'idea, gli dà la forma, qui è come se parlasse di sé, perché in fondo tutta la vicenda maciniana è un trovarsi in rapporto a una quantità di elementi culturali ed ideali che vengono congiunti in parte, forse addirittura con un né, né. Quindi anche qui l'idea interessante può essere quella di vedere in Mazzini proprio una sorta di proiezione, cioè, ah, e sarebbe la proiezione del mio di Mazzini, quindi questa dimensione che ci si trova, poi in realtà il secolo gli dà l'idea, gli dà la forma, cioè è il contatto con la realtà che effettivamente poi crea l'immagine o crea il pensiero. Ecco, il dato essenziale. E ancora, ancora, dice, sempre rivolto ad Aguilz, nessuno fin qui tra i pittori ha sentito come lui, mi chiedo scusa che lo trovo nei miei appunti perché ho un mascherino che mi impedisce di leggere, ma ce l'ho qui, nessuno fin qui tra i pittori ha sentito come lui la dignità della creatura umana, non quale brilla agli occhi di tutti, sotto la forma del potere, del grado, della ricchezza o del genio, ma quale si rivela agli uomini di fede e di amore originale, primitiva, inerente a tutti gli esseri che sentono, amano, soffrono e aspirano secondo le loro forze con la loro anima immortale. qui c'è proprio un richiamo alla realtà. Ora, Hayek non è l'unico di cui parla, in realtà parla per esempio anche di Giuseppe Bezzuoli, vedete questo dipinto Il ritrovamento del corpo di Manfredi che sarebbe un purista, tra l'altro proprio toscano, adesso arriveremo a parlare di Firenze, era il ritrattista anche del gran duca Leopoldo II, quindi un pittore di corte, si potrebbe dire, che è liberato come allievo Giovanni Fattori che muore nel 1855 e Giuseppe Bezzuoli ne parla e anche qui ne parla con una certa enfasi perché capisce che per esempio in questo ritrovamento del corpo di Manfredi c'è un'immese di affermazione col dato storico, quanto viceversa poi il dato fosse diventato quasi cronaca, lo si vede in quest'altro dipinto di Hayez i profumi di Parga che evidentemente associa alle vicende della Grecia davvero gli elementi che vengono raffigurati quindi c'è anche qui una spessa di trasposizione della storia nel presente e poi cosa gli piace? Quali sono insomma gli elementi della pittura che privilegie Mazzini? Beh, ho messo la lanterna di Genova di Giovanni Migliara perché un genovese non si poteva non mettere la lanterna gli piacciono i vedutisti come appunto Migliara e che però gli dice si esprimono con sintesi democratica che significa sintesi dell'io sintesi del sentimento con quello che viene rappresentato quindi il tema anche delle rovine in senso romantico vedete questi dipinti di Migliara e poi cita anche fra i pittori per esempio Massimo D'Azerio ecco la vendetta che sono dipinti del 34-35 sono dipinti romantici cioè dove il tema della realtà emerge emerge proprio empaticamente ora questa è in un certo senso l'idea il tema essenziale ora c'è però un'ulteriore evoluzione perché questo è il dato ma allora ma questo scritto di Mazzini è stato poi letto effettivamente pubblicato su una regista londinese in inglese è stato letto ma io credo francamente che la lettura sia avvenuta in una maniera curiosa cioè sia avvenuta attraverso la figura stessa di Mazzini e si potrebbe dire in un certo qual modo un'ulteriore discesa nella realtà che è quella della partecipazione mazziniana al 48-49 quindi in maniera particolare alla Repubblica Romana ecco il dato e qui qui veramente il contatto di Mazzini con gli artisti diventa quotidiano perché perché per esempio nella vicenda della Repubblica Romana è coinvolto un romano come grande pittore italiano dell'Ottocento Giovanni Costa Nino Costa lo vedete con la tuba in basso a destra fierissimo combattente il quale tra l'altro fece la prima guerra di indipendenza partecipò alla Repubblica Romana e poi avrebbe fatto anche la seconda guerra di indipendenza quindi un grande pittore italiano che è stato un convinto marciniano e un convinto garibaldino quindi qui ci sono gli elementi che vedete come se la vicenda del 30 fosse diventata in Francia fosse poi diventata quella del 49 appunto in Roma con ovviamente la presenza diretta di Mazzini è un'influenza straordinaria ecco però quella vicenda che Luigi Calamata ci fa vedere in questa acquaforte da cui siamo partiti del 48 purtroppo si spegne ecco e qui c'è una fase si potrebbe dire di traslazione un cambiamento di luogo il fatto che nel Gran Duttato di Tostana fosse una creativa tolleranza nei confronti appunto dei reduci del 48 49 quindi che non vi fosse una sorta una reale repressione di coloro i quali erano cercati nei loro territori nei loro ridi di appartenenza implica che arrivino proprio in Firenze una serie di artisti che sono veramente eredici dalle barricate per esempio Francesco Saverio Altamura Domenico Morelli che vengono da Napoli Morelli era stato proprio tra l'altro aveva combattuto sulle barricate dei quartieri spagnoli poi ancora da Roma arriverà appunto Nino Costa poi ci sono in Firenze coloro i quali condividono totalmente l'ideale democratico l'ideale appunto repubblicano e sono per esempio dei giovani che si chiamano Diego Martelli un'importante intellettuale fiorentino del tempo che sarà il critico del gruppo dei macchiaioli stesso orientamento è vero un altro artista non fiorentino ma toscano cioè Giovanni Fattore che si forma proprio nella cadena di Firenze e anche lui con orientamenti mazziniani neanche Carivaldi oppure ancora Telemaco Signorini tra l'altro Martelli e Signorini studiarono insieme a Carducci dei padri scolopici insomma è un po' un'aristocrazia si potrebbe dire del pensiero in quel momento poi arrivano un po' da tutta Italia reduci appunto dalle vicende del 48-49 e piano piano in Firenze si crea proprio un clima favorevole a rinnovare la pittura nel segno dell'anti-accademismo ecco il discorso importante di Mazzini e anche il fatto che nella vicenda teorica diciamo di Mazzini tradotta in pratica è come se si venesse una specie di discesa appunto della figura dell'artista e della figura del politico senza nessun estetismo ma proprio come fatto militante come responsabilità come coscienza e qui c'è una definizione che Mazzini dà dell'artista che è assolutamente straordinaria e questa la si trova proprio nel saggio che ho finzionato prima della pittura modernità e dice traduttore accurato di una lingua sacra che più tardi viverrà la lingua di tutti questo è Mazzini questo è Mazzini che poi qui dietro scavando arriviamo fino a Vico cioè ce ne sarebbe a non finire ma fondamentalmente l'uomo politico è un traduttore accurato di una lingua sacra che più tardi viverrà la lingua di tutti è artista è traduttore alla sua volta di una lingua sacra che deve diventare la lingua di tutti allora ecco il tema della pittura in senso democratico non ha questo discorso a che fare con i contenuti non ho bisogno di vedere per forza le battaglie non ho bisogno di vedere per capirci soltanto i volti degli eroi qui si tratta proprio di un rapporto empatico con la realtà cioè togliere all'arte qualsiasi forma di accademismo e rendere direttamente comprensibile con un linguaggio che non sia un linguaggio eccessivamente formalizzato ma un linguaggio equilibrato che parli la lingua della verità la lingua della realtà questo è il dato essenziale e questo è proprio allora un modo in cui in Firenze il pensiero mazziniano influisce indipendentemente dalla lettura di quel saggio di cui dicevo perché di fatto è l'opera di Mazzini a ispirare questi artisti la loro militanza naturalmente e anche le loro opere vedete che per esempio interessante questo passaggio da Roma verso Firenze in Francesco Saveli Altamura che siamo un po' più in là il tricolore portato a Firenze vedete l'idea che l'arte porti questo tricolore di umanità di repubblicanesimo di pensiero democratico come elemento di una comunità o diciamolo con il sinico di un'associazione di una libera associazione ora proprio questo elemento fa sì che ci sia un raccordo con l'Europa dove e come il raccordo con l'Europa beh comunque la maturazione del romanticismo in Francia che sta per realismo e alcuni artisti che stanno proprio a Firenze come lo stesso Francesco Savelio Altamura vanno nel 1855 a Parigi dove i miei studenti sorrideranno perché l'abbiamo fatto proprio quest'anno vedono il padiglione del realismo di Gustave Courbet e vedono proprio il funerale Ornans e altri dipinti quello di sotto con Giuseppe Courbet è successivo ma il tipo di pittura è quella e tornano entusiasti mazzinieramente entusiasti si potrebbe dire di questo umanesimo che hanno percepito dalla grande pittura europea esposta appunto nel salone del nel padiglione del realismo da Gustave Courbet qui c'è Courbet se è Corot ce ne sono tanti ma fondamentalmente c'è questa dimensione del vero questo bisogno di stare riuscini alle cose e allora è su questa base che al caffè Michelangelo nel 1855 un caffè fiorentino nel centro di Firenze si crea quello che è la libera associazione dei pittori macchiaioli pittori macchiaioli appunto tra i quali conta per esempio Nino Costa qui vedete questo pastore nell'agro romano che è degli anni 40 poi ho messo un dipinto sotto di Giuseppe Palizzi che non è un pittore che si è andato a Firenze ma Giuseppe Palizzi è stato il maestro di Altamura come era stato il maestro di Morelli che sono in realtà due fratelli che hanno un grande atelier a Napoli che sono ispiratori di una poetica realista quindi come se qualche pagina di questo dipinto di Carbonai non la trovassimo proprio nel contesto dei macchiaioli che io vi dica perché si chiamano macchiaioli quello che vedete sopra è il caffè Michelangelo che è un'incredibile caricatura che fa Adriano Cecioni che è un pittore e scultore del tempo e qui dentro ci sono appunto i nomi che vi ho fatto Altamura Morelli Giovanni Fattori Silvestro Lega Telemaco Signorini Serafino De Pivoli Federico Zandomenevi e molti di questi pittori sono veramente reduci reduci da imprese militari allora per esempio un altro importante protagonista di questa scuola della macchia è Giuseppe Abatti guardate questo ritratto che gli fa Giovanni Boldini nel 1865 vedete che ha una benda sull'occhio perché l'occhio gli aveva portato via una fucilata sul Volturno perché era stato con Garibaldi e quindi aveva compiuto l'impresa dei Mille e la stessa cosa vale per Federico Dandomenidi Abatti era di origine napoletana già non dimentico era Veneto ma avevano militato tra i Mille appunto e addirittura appunto Abatti era stato ferito perché aveva perso l'occhio guardate fra l'altro anche come Silvestro Lega proprio ritrae Garibaldi sembra un profeta io prima ho parlato di eterna individualità ecco potrebbe benissimo stare in quel discorso che faceva Pasqua di Sumazzini che esisteva in un certo senso addirittura prima che qualcuno esistesse ecco quindi c'è una sorta di mistica anche in questo senso chiamiamolo un realismo etico e questo realismo etico comporta proprio un legame profondo con la vita con la realtà secondo quella che viene chiamata la scuola della macchia allora intanto vediamo un momento perché questo sono parole di Diego Martelli come vi ho detto era critico dei macchiaioni da quel momento cioè da quella scossa si potrebbe dire alla fine degli anni 50 poi inizio degli anni 60 da quel momento un feroce assiduo lavoro di demolizione cominciò con la pazienza e la pregazione dei martiri cioè si dispano sostanzialmente questi pittori di ogni accademismo di ogni modello e entrano in contatto con la realtà così come erano entrati in contatto con la storia e combattere e allora qui veramente c'è una corrispondenza di carattere etico ed estetico cioè Martelli dice si doveva combattere combattendo ferire era quindi necessaria un'arma e una bandiera e fu trovata la macchia la macchia è una pittura che si produce senza un disegno preparatorio quindi sostanzialmente una pezzi di lontana remità caravaggesca il colore l'elemento essenziale quindi la vita anche il sentimento e poi questa macchia sta anche nel darsi alla macchia cioè essere in un certo qual modo quindi al di fuori del seminato e quindi entrare in contatto con la natura queste le due le due questioni rette naturalmente però ecco e questa è una dichiarazione di Giuseppe Abbati l'arte è il prodotto di una personalità è il vero vissuto in un temperamento ecco questi sono gli elementi mazziniani si potrebbe dire proprio tradotti nell'ambito dell'arte e questo che si vede poi bene naturalmente negli sviluppi della scuola macchiaiola questo famoso campo di battaglia il campo italiano la battaglia di magenta vedete appunto Giovanni Fattori il quinto celebrato poi portato a compimento nel 1862 che vedete ci rappresenta tra l'altro una battaglia ma vista dalle retrovie cioè vista la dimensione umana vista nella dimensione empatica quindi in questo ecco che l'artista diventa protagonista di una comunità non retorica al di là della vittoria si potrebbe dire quindi ecco il dato sostanziale proprio l'avvicinarsi l'essere vicini nessuno aveva mai pensato di rappresentare una battaglia vista addirittura dal punto dei feriti dal punto di vista dei feriti certo l'avevano fatto romantici alcuno aveva è vero come per esempio Geri Corra ha presentato i veri poveri disgraziati che avevano partecipato alla impresa alla campagna di Russia di Napoleone ma qui però è sviluppato in un altro modo c'è una dimensione corale insomma questa è la vera dimensione di una pittura democratica ed è talmente chiaro che per questi pittori ci fosse questo sudalizio questo legame che Silvestro Lega che è un altro grande democratista come Giovanni Fattori della appunto scuola macchiaiona a modo suo perché poveretto era un romagnolo romagnolo di romagna se l'aveva fatto gli studi che aveva fatto in maniera forse un po' incerta ma piuttosto bella quando dice non avendo mai dipinto il paese andai con degli amici in campagna per fare studi sentì dentro di me un'impressione come trasportato da una nuova vita nell'arte erano nel 1959 scoppiata la guerra mi occupai a fare qualche quadro di circostanza feci bersaglieri che conducono dei prigionieri ero io che cominciava a fare come sentiva come voleva come sapeva ecco questa è una dichiarazione mazziniana questa è la dimensione in cui in realtà quello spirito che sembrava così lontano che alleggiava quasi sembra sulle acque sulle terre prima della creazione si imbedesima nel paese italiano nella storia ma anche nella geografia al di là di fatto proprio dei temi che pure qui chiaramente si riferiscono appunto alla seconda guerra di dipendenza è tutto quello che mi ha seguito naturalmente quindi ecco saper leggere in queste dimensioni straordinarie della scuola di Macchiariola proprio queste espressioni eccezionali anche di assoluta normalità tra l'altro vedete altro tema mazziniano fondamentale la donna il ruolo della donna la funzione della donna guardate questo canto di uno stornello del 1868 questi sono naturalmente poi anche gli anni di Firenze Capitano quindi naturalmente c'è qualcosa di importante come modello e poi ancora queste vedute vedete la cupola naturalmente di Ponellesti il campagno di Giotto ma viste dagli orti in un certo senso è come la battaglia di Magenta vista appunto dalle retrovie perché è il sentimento che conta fondamentalmente rileggiamolo traduttore accurato di una lingua sacra che più tardi diverrà la lingua di tutti ecco questa diventa la lingua di tutti e guardate che l'impressionismo in Francia non è ancora cominciato perché se questi dipinti sono del 68 del 63 prima molto impressionista del 74 quindi addirittura anticipano il tempo sono degli sviluppi empatici del realismo sempre più e i più giovani sono proprio straordinari quello che voi vedete in alto è per esempio questi questi interni di chiostro proprio di cui Giuseppe Abbati poverete quello senza l'occhio di cui vi dicevo vedete il chiaroscuro il quadro macchiato perché è riportato a delle dimensioni chiaroscurali elementari il bianco il nero alcuni gialli le terre bruciate o ancora notate come proprio i soggetti siano i soggetti di una semplicità assoluta questo per esempio i tetti al sole di un grandissimo pittore destinato purtroppo a una morte precoce cioè Raffaello Sernesi a mio parere il maggiore pittore giovane di questo gruppo che costituisce una specie di macchia nella macchia che si chiama la scuola di Pergentina ma questo significa semplicemente dai luoghi dove andavano a dipingere anche il nero o ancora qui straordinario sempre di Sernesi la punta del Romito da Castiglioncello allora appunto tra l'altro Diego Martelli aveva una fila proprio a Castiglioncello dove andavano anche a trovarsi i vari fattori levi e quant'altro ecco qui è come se noi leggessimo a quando a quando si muoveano gli steli le foglie i rami gli alberi al passaggio in un improvviso spirito dei cieli cioè è come se il paesaggio fosse mazio e lo fosse il modo di rappresentare e l'empatia e quel sentimento di comunità che è terra comune che è luogo comune che è mare comune che è luce comune e questo è un dato fondamentale vedete a prescindere dal tema non c'è il trombone la farfara la sciabola può anche esserci ma non è questo un elemento decisivo quindi ecco quello che vi dicevo e allora chiedo scusa ai colleghi e mi avvio rapidamente anche a chiudere questo discorso e c'è una triste vicenda in realtà qual è la triste vicenda? è che intanto bisogna dire che erano dei combattenti indefessi perché in realtà per esempio Abbati e lo stesso Federico Zandomeneghi che vedremo dopo corrono in Aspromonte sono con Garibaldi anche nel 72 in Aspromonte cioè erano pittori che militavano realmente nelle vicende del risorgimento quindi per come difugevano ma anche per come volevano battere quindi non è che si tirano indietro entrare dentro una realtà era assolutamente fondamentale ora qual è il punto qui diciamo un suggerimento poi a cui vorrei arrivare beh intanto una fase fondamentale Terza Guerra di dipendenza 1866 perché una fase fondamentale ma perché da una appunto terribile sconfitta dell'esercito appunto piemontese siamo a quadrato di Villa Franca quindi siamo a custodia qui siamo a una sconfitta che tra l'altro viene clamorosa che viene dipinta da Giovanni Fattori perché questa è un'altra cosa importante non dipinge solo una vittoria che è già una sconfitta ma al tempo stesso invece le vittorie di Garivaldi con il suo corpo dei 38.000 volontari appunto in Trentino che io qui vi ho fatto vedere in un dipinto di Felice Zennaro la battaglia di Bezzetta cioè la vittoria sugli austriaci a Bezzetta nel 1966 in quel contesto ci sono i pittori macchiaioli che combattono ci sono i pittori macchiaioli Diego Martelli il critico è arrolato come volontario Giuseppe Abatti è arrolato come volontario tra l'altro verrà preso prigioniero e detenuto a lungo in un caccio d'austriaco Raffaello Sernesi ho detto prima forse il migliore dei giovani pittori ferito da una gamba che si va in cancrena non accetta l'amputazione e muore in un ospedale appunto militare austriaco quindi in questo vedete una tragedia Federico Zandomeni ritorna anche lui è corso subito a combattere quindi qual è il tema fondamentale di obbedisco che è chiaro che nonostante quella vittoria che avrebbe forse qui non faccio la scuolina aperto con la conquista di Trento da via a un compimento forse di unità territoriale che sarebbe avuto tanto tanto tempo dopo l'obbedisco che significa per Garibaldi obbedisco alle logiche della diplomazia obbedisco alle logiche della politica e quindi anche lo spossessamento si potrebbe dire ideale democratico perché fondamentalmente c'è una differenza anche nell'organizzazione dei due eserciti quello appunto è sempre lo stesso ma naturalmente uno è esercito prettamente primontesi Cialdini e via riscorrendo e l'altro è l'esercito dei volontari quindi l'esercito regolare viene sconfitto ma vince dal punto di vista poi della politica l'esercito dei volontari è vittorioso ma viene sconfitto dalla politica e quindi Garibaldi dirà obbedisco e questo è il momento in cui purtroppo si spegne la grande parabola dell'entusiasmo democratico e dell'entusiasmo Garibaldino ora questo è un punto fondamentale perché la sconfitta è una sconfitta che come dire fa entrare proprio nella prosa del mondo avremo ovviamente nel 1870 portapia e però anche la grande crisi a cui il movimento mazziniano il movimento democratico va incontro appunto fino alla morte di Mazzini nel 72 quindi il dato è anche quello che sembra esserci una sconfitta però ecco la cosa voi forse sapete che Mazzini è morto a casa Rosselli è vero e quindi Nello Rosselli martire fascista insieme al fratello Carlo quando nel 32 scrive appunto il suo Carlo Pisacano il risorgimento italiano sapeva che in casa sua era morto Mazzini quindi anche questo c'è un legame ecco guardate che cosa scrive anche alla fine proprio di quel bellissimo libro che si raccomanda naturalmente di cui si raccomanda la lettura chi dava tanta prodigiosa forza a quell'uomo precocemente invecchiato dalle sconfitte malato e incanuntito la disfatta le ingiurie lo trasumanano moltiplicano all'infinito le sue attività dando un commosso fremito d'ali alla sua prosa Mazzini solo misurava e capiva adesso questi sono fatti relativi alla morte di Carlo Pisacano e quindi alla colpa che veniva addossata da Mazzini e aveva addirittura mandato a morire appunto alcuni dei suoi migliori in queste imprese che molti consideravano delle folie o delle imprese destinate a fallimento quindi c'era tutto un problema anche io credo una contraddizione di Mazzini con se stesso anche dei momenti in cui quel dovere che era per lui fondamentale forse avrà anche vacillato però Nello Rosselli scrive Mazzini solo misurava e capiva in fondo anche qui c'è una specie di trascendenza rispetto alla storia e ora in un minuto chiudo il punto che vorrei porre anche alla discussione dei colleghi se lo credo è ma è possibile allora vedere il dovere mazziniano la visione mazziniana della politica ma soprattutto un'antropologia mazziniana al di là delle vicende del risorgimento perché questo è un punto credo su cui bisogna riflettere cioè c'è un mazzinianesimo dopo mazzini dal punto di vista politico non c'è dubbio io citavo nello Rosselli gli studi straordinari su tutto l'associazionismo che sviluppa in Italia proprio dopo il 1870 quindi una cosa formidabile cioè è un mazzini che rinasce veramente dalla terra che rinasce veramente dagli uomini e dalle donne quindi in questo senso era giusto anche pensare a un paesaggio o a un panorama che fosse geografico e forse insieme umano quindi questo è un dato importante quindi esiste effettivamente questo spirito mazziniano oltre le sconfitte oltre la prevalenza della politica oltre il fatto e arrivo subito a chiudere l'idea era questa sostanzialmente allora qualcuno si trasferisce a Parigi Diego Martelli proprio Diego Martelli Federico Dandomeneghi e qui cominciano a macinare un altro insieme di rapporti in contatto con l'impressionismo ma sempre con l'idea di avere dentro un messaggio di umanità di solidarietà da veicolare un dovere per capirci trovato questa volta nella molteplicità della vita moderna da pittori della vita moderna ma ispirati in realtà proprio dal macinanismo ed è in questo interessante allora che oltre al fatto che Federico Dandomeneghi si sia trasferito proprio a Parigi così perché era finita una storia in Italia poteva cominciare altrove che su quella braccia ecco che arriva a Parigi anche a Tengo Soffici e che ci sta dal 1901 al 1907 e scrive nel 1908 due anni dopo quindi l'inno secolare di Giovanni Pascoli il suo anonimo Toscano che storia è è una specie di Jacopo Ortis che è come si si è perduto nella grande metropoli parigina mentre invece Soffici è tornata quella grande metropoli Roberto devo chiederti di stringere leggo immediatamente soltanto questo in Anomini Motoscano al Dengo Soffici pittore critico scrive parlando della libertà diceva che è da schiavo ricercarla con troppo fracasso e da poco di buono il persisterli una volta che uno l'ha raggiunta il più gran compito dell'uomo secondo lui dopo aver conquistata la libertà sarebbe quello di crearsi volontariamente un dovere allora forse vedete che quell'idea di una dimensione mazziniana spirituale che si rincarna in vari modi forse noi la possiamo ritrovare proprio dentro la modernità in questi spiriti e allora io chiudo su questo se qualcuno sostiene che Mazzini è inattuale come è stato sostenuto nelle scuole italiane nei giorni scorsi dico che è vero perché la inattualità di Mazzini è la sua eterna presenza vi ringrazio molto grazie di questa lettura così trasversale che riesce a mettere insieme arte letteratura politica e a concludere coerentemente con una riflessione appunto sull'attualità di Mazzini poi in sede di discussione mi concederò qualche commento anche su questa seconda dimensione dell'essere alla macchia che tu però hai trattato in modo molto suggestivo prendendola dal punto di vista dell'interazione tra Mazzini e le arti direi di dare subito la parola a Lara Piccardo che ci parlerà della prospettiva europeista in Giuseppe Mazzini ti chiedo Lara di rispettare i tempi che ci siamo dati grazie 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 presidente ringrazio anche io come già ieri è stato fatto la professoressa Scala per la grande energia che ha messo nell'organizzazione di un convegno che finalmente ci voleva un ritorno in presenza assolutamente piacevole è corretto secondo me ritornare anche a vedersi a frequentarsi a scambiarsi vis-a-vis quelle che sono le varie come dire ricerche in corso o appena conclusa come anticipato il presidente la mia relazione di quest'oggi riguarda gli aspetti più europeistici del pensiero di Mazzini dove aggettivo europeistico sta per ciò che ambisce ad una unità o costruzione diciamo così di una di un'Europa dato anche quello che è per esempio l'importanza dell'Unione Europea oggi effettivamente viene da chiedersi come Mazzini potesse interpretare il vecchio continente in parte ieri ascoltando la relazione del professor Balzani ci siamo già fatti un'idea su quella che poteva essere la visione di Mazzini che rimane la visione di un uomo ottocentesco per certi versi Mazzini naturalmente all'interno del suo lavoro dedica ampio spazio all'Europa questa Europa ha una visione e ha un modo di essere concepita però anche abbastanza peculiare all'interno di un secolo che vedeva la lotta verso un'indipendenza o una nazionalità come fronte primo ecco di discorso politico quando si affrontano comunque delle ricerche su Mazzini e due premesse metodologiche secondo me devono essere devono essere fatte innanzitutto la mole di fonti che si hanno a disposizione cioè gli scritti mazziniani sono davvero innumerevoli ancora oggi escono dei come dire dei nuovi contributi o si scoprono delle nuove lettere in fase di pubblicazione per esempio un ulteriore appendice dell'epistolario di Mazzini quindi questa proliferazione di fonti può essere sì una ricchezza dall'altra parte naturalmente bisognerebbe scrivere e maneggiare con cura perché è chiaro che diventa complicato operare anche solo che una scelta negli scritti quindi questo naturalmente sta molto al ricercatore che potrebbe naturalmente anche essere una scelta come dire non condivisa o non condivisibile la seconda premessa che volevo farvi è che anche l'idea di Europa e ieri l'abbiamo già sentito nella relazione del professor Balzani si trasforma in Mazzini nel corso del tempo non è un'Europa fissa intesa in senso geografico è un'Europa che cambia tuttavia ci sono due elementi all'interno del pensiero mazziniano che ci danno come dire questi punti cardinali che sono fissi in merito ai quali poter organizzare tutto il nostro discorso il primo riguarda il fatto che per Mazzini esiste la nazione l'individuo e appunto l'umanità il secondo punto riguarda l'ordine di questi tre elementi perché se abbiamo da un lato l'individuo e dalla parte opposta abbiamo l'umanità la nazione vista da Mazzini come un medium come un mezzo sostanzialmente per passare appunto dall'individuo dall'individuo alla umanità l'umanità è il dato ultimo sopra l'umanità c'è soltanto Dio e come dire tutta la storia procede lungo una forma di costruzione delle nazioni che inevitabilmente liberandosi dagli assolutismi tenderanno in via assolutamente naturale a questa unità questa umanità è un dato che non è da dimostrare perché è inevitabile questo succederà per Mazzini viene dato in qualche modo come dire un po' come scontato l'umanità per Mazzini coincide con l'Europa per una larga parte perché in fondo Mazzini è lo ripeto un uomo dell'Ottocento quindi l'Europa è come diceva in un suo scritto e qui vado a citare l'Europa e potremmo dire il mondo da che l'Europa è la leva del mondo non crede più nella santità delle razze regali e poi va avanti il passaggio che mi premeva a sottolinearvi è come effettivamente ci sia questa coincidenza sicura tra umanità ed Europa e in Mazzini l'Europa è un po' il mondo ma questo credo sia abbastanza normale ancorché poi ed è già stato detto sempre ieri adesso chiedo scusa al relatore non ricordo chi di preciso si faceva riferimento all'abolizionismo quindi alla guerra civile americana insomma gli avvenimenti di quel periodo quando Mazzini poi comincerà a guardare anche all'America e agli Stati Uniti farà rientrare gli Stati Uniti nell'umanità quindi questo concetto di umanità tenderà poi ad ampliarsi Mazzini tra l'altro crede che alcuni popoli extraeuropei debbano ancora fare ampi passaggi prima di poter essere accolti nell'umanità qualcuno diceva si nota un certo razzismo in Mazzini direi di no semplicemente in modo ampiamente come dire normale per l'epoca Mazzini si aspettava che ci fossero ancora dei passaggi politici delle costruzioni politiche da effettuare prima che questi popoli potessero poi andare a partecipare a questa umanità che ho cercato di descrivervi al meglio delle mie possibilità Mazzini è un uomo di appunto non soltanto pensiero ma è anche un uomo di azione e per procedere alle azioni nel corso del suo tempo tenendo fede diciamo a questi elementi come ve li ho indicati cerca di organizzare naturalmente il lavoro attraverso una serie di diciamo in termini generici associazioni che si modificano nel corso del tempo perché Mazzini ebbe secondo me come grande caratteristica positiva quella di sapersi sempre adattare si adattava in base alle condizioni storiche politiche del particolare momento pur mantenendo fermi dicevamo appunto alcuni elementi assolutamente essenziali le organizzazioni che Mazzini va a formare non hanno a che fare con una definizione come posso dire di un assetto istituzionale europeo come si può immaginare per esempio per altri autori e tendenzialmente novecenteschi nel corso dell'ottocento direi che l'unica eccezione è Carlo Cattaneo che parlava effettivamente di Stati Uniti d'Europa tutti gli altri avevano una visione di un tipo un po' differente c'è da dire che però Mazzini rispetto a tutti gli altri autori ottocenteschi ha assolutamente chiara la differenza tra confederazione e federazione questo non è un elemento secondo me di secondaria importanza in un secolo in cui ancora si faceva fatica la riforma della confederazione elvetica era per la trasformazione della confederazione in una federazione che però mantiene il nome di confederazione gli Stati Uniti sono una repubblica federale ma rimangono come Stati Uniti d'America quindi anche da un punto di vista come dire lessicale qualche confusione sembrava apparire per Mazzini tutto è assolutamente chiarissimo che cos'è la federazione è chiaro così come la confederazione era laureato tra l'altro in giurisprudenza si era laureato in Iure Iutroque a Genova aveva seguito tutto il dibattito relativo alla trasformazione della confederazione elvetica quindi aveva esattamente chiaro quello che era l'una e l'altra e l'altra forma nei suoi scritti questo tipo di indicazione però su quello che potrà essere il futuro dell'Europa in senso federale o confederale Europa più o meno ampia diciamo così non emerge condivido quello che scrisse nel 2002 la professoressa Bianca Montale non è come dire un appunto secondo me da fare a Mazzini da dire mai ci pensò Mazzini era un pragmatico tra le altre cose quindi semplicemente dovendo prima raggiungere il livello di nazione diverse appunto nazioni europee era prematuro cominciare già a pensare di quello che sarebbe stato Mazzini gli impegni ne aveva effettivamente tanti la storia lo richiedeva attento a una serie di eventi quindi il discorso sulla forma sull'assetto politico dell'Europa poteva tranquillamente essere rimandato sono appunto invece le sue varie associazioni con molte virgolette che cambieranno poi i vari nomi che caratterizzano come dire la parte di attività politica legata all'Europa la prima credo che possiate facilmente individuarla naturalmente si tratta della giovine Europa credo di non dover spendere molte parole su questo prima come dire federazione ecco di rivoluzionari è molto interessante però leggere diversi contributi di Mazzini in merito alla giovine Europa perché per Mazzini la giovine Europa doveva essere formata da tutte le giovini nazioni non soltanto da quelle che erano già state create e che si erano federate nella giovine Europa ma soprattutto interessante andare a vedere tutte quelle a cui lui pensava e per esempio facendo riferimento mi riaggancio alla relazione del professor Balzani di ieri mai pensò ad una giovine Russia forse non è un caso però tante giovine invece in ambito slavo già esistevano è esistita in realtà poi una giovine Russia ma questa giovine Russia i cui aderenti erano però degli studenti universitari dell'università di San Pietroburgo che avrebbero poi però aderito ad una società segreta terroristica cercarono il contatto con Mazzini quindi fecero avere delle lettere a Mazzini Mazzini mai ne volle sapere diciamo che il terrorismo ecco non faceva l'assassinio di stato non facevano parte del suo DNA politico per cui laddove possiate leggere giovine Russia in effetti sì ma non di ambito mazziniano Mazzini mai la riconobbe quindi interessanti tutte le varie giovini a cui lui si si dedicò alcuni contributi nei volumi curati da Giovanna Limiti per esempio ce ne danno un ampio sguardo quindi a quello rimando e non sottrago altro tempo su questo punto perché volevo citarvi almeno ancora altre due organizzazioni mazziniane che puntavano come dire così a lavorare per la creazione di nazioni che avrebbero potuto affratellarsi nell'umanità in ordine più o meno cronologico abbiamo il comitato democratico e in questo caso era un comitato centrale di nuovo per riprendere le file del discorso rivoluzionario dopo il 1848 49 quindi per cercare di andare a ricreare come dire un sistema di collegamento tra i rivoluzionari europei che avrebbero dovuto occuparsi delle proprie nazioni che avrebbero potuto poi trasformarsi in nazioni democratiche e affratellarsi un'ultima associazione che vi cito e sto andando veloce perché volevo lasciare gli ultimi minuti per un paio di considerazioni è l'alleanza repubblicana universale l'alleanza repubblicana universale ebbe un ruolo abbastanza rilevante nella misura in cui Mazzini immaginava di poter integrare anche i rappresentanti degli Stati Uniti d'America e quindi qui vediamo come posso dire questo ampliamento del concetto di umanità e di Europa in generale ancora se ho ancora qualche minuto di esposizione perché volevo ancora individuare un paio di elementi su questo discorso con moderazione ho ancora te d'accordo volevo soltanto individuare due ultime cose è interessantissimo secondo me andare a valutare quelli che sono gli aspetti europeistici del pensiero di Giuseppe Mazzini perché Giuseppe Mazzini sarebbe stato poi richiamato all'interno di altri aspetti altri documenti che avrebbero avuto a che fare con l'unità europea in epoca per esempio novecentesca questa trasposizione grazie alla resistenza di ideali mazziniani all'interno di una serie di battaglie per l'Europa merita secondo me di essere guardata partendo proprio dal fondatore di quelle idee le idee mazziniane vorrei anche sottolineare naturalmente che vengono individuate anche nelle linee politiche diciamo così più pure non per forza relative diciamo all'Europa l'idea che l'Europa debba innanzitutto crearsi in nazioni senza andare naturalmente verso il nazionalismo perché quella ne sarebbe una degenerazione e cioè trasformare l'Europa vecchia morente dei sovrani del papato in un'Europa nuova è naturalmente il dato essenziale democrazia e repubblica insieme a libertà sono le parole chiave e per ripercorrere anche un po' le relazioni che sono state appunto raccontate ieri ma anche la parte dell'arte che abbiamo appena ascoltato del professor Cristi bisogna dire che per Mazzini la cultura era l'elemento essenziale davvero unificatore di questa Europa che lui si rendeva conto essere assolutamente oterogenea lo faceva lo sapeva descriveva precisamente tutti i vari gruppi etnici addirittura di slavi chi avrebbe dovuto dare il segnale per compiere questa grande rivoluzione di innovazione a livello europeo sarebbe stato l'Italia avendo la Francia già giocato come dire le sue carte di innovazione rivoluzionaria ed essendo un po' come dire latente a partire dall'avvento direi più o meno dal 1833 34 insomma Mazzini ritiene che ormai ufficialmente la Francia abbia perso questo impulso il primo scritto che per esempio Mazzini riconosce della sua epoca giovanile già del 1929 di una letteratura europea già ricorda che la Francia ha esaurito quella che è la sua spinta propulsiva che l'Europa è fatta da un'unica cultura e che deve esserci una nazione l'Italia per esempio che possa dare il segnale per far cominciare questa lotta verso una nuova Europa che inevitabilmente si renderà unita attraverso l'umanità grazie ringrazio Lara per la precisione e la la concisione a cui si è condannata nella sua nella sua bella descrizione di questa dimensione europeista del pensiero Mazziniano facendo ponte tra ieri e oggi appunto questa verrebbe da riflettere sul fatto che si tende sempre un po' a sottovalutare questa dimensione magmatica vulcanica confusa anche normalmente realisticamente del pensiero politico di primo ottocento che viene un po' scolasticamente sempre messo a posto negli scaffali eccetera invece proprio anche anche in relazione alle dinamiche particolari attraverso cui avveniva la comunicazione politica ieri si accennava appunto a questi giornali a questo e quindi ricostruire questi tessuti e queste comunicazioni effettivamente emerge un mondo che ripeto sarà anche appunto molto confuso molto dopo cercherò di suggerire quale secondo me può essere la bussola di questa confusione ma che però tende a essere un po' sottovalutato ecco ci dimentichiamo un po' di questo fervore molto 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 confuso e talvolta appunto avendo noi bisogno di andare a vedere cosa è successo e cosa effettivamente si è concluso tutto ciò sembrano i fumi di un pensiero però è anche il momento insomma una sala parto di di concezioni estremamente vitale e quindi grazie di averci un po' ricostruito questo questa creatività all'opera Fulvio Conti Mazzini Dante e l'idea di Nazione ti do la parola vedi se riesci ad accendere e accesa grazie presidente ero già pronto ad approfittare della parsimonia genovese della collega Piccato per recuperare qualche 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 minuto grazie dell'invito grazie per questa generosa ospitalità questa bella occasione di confronto ho ascoltato la relazione anche precedente del professor che ho fatto la mia tesi di laurea su Diego Martelli in storia della tesi di laurea in storia del risorgimento e poi è diventata qualche anno dopo un libro quindi tutto quel mondo mi è tornato diciamo davanti agli occhi e poi in fondo come dire dimostra come ci sia poi un filo un lungo percorso che ci ha portato in fondo a partire anche da studi che andavano a incrociare ambiti come la storia dell'arte o la storia della letteratura poi per rivoli diversi quello è stato ed è almeno per me di nuovo il punto di arrivo ma anche credo di tanti altri colleghi sul finire credo comincio con una citazione sul finire credo dell'anno anteriore cioè sul finire del 1826 io avevo scritto le mie prime pagine letterali mandandole audacemente all'antologia di Firenze che molto a ragione non le inserì e che io avevo interamente dimenticate finché le vide molti anni dopo inserite per opera di Niccolò Tommaseo nel subalpino versavano su Dante che io dal 1821 al 1827 aveva imparato ad amare non solamente come poeta ma come padre della nazione così si esprimeva Mazzini sul filo della memoria nella nota autobiografica che apriva il primo volume dei suoi scritti editi e inediti apparso per i tipi di Daelli nel 1861 il riferimento era al famoso scritto dell'amor patrio di Dante che egli compose appunto fra il 1826 e il 1827 quando aveva tra i 21 e i 22 anni su questo primo lavoro di Mazzini e sul suo curioso destino editoriale mi soffermerò fra breve prima però dobbiamo provare a dare risposta ad alcuni interrogativi perché Mazzini negli anni dell'adolescenza della sua prima formazione culturale aveva imparato come scrive come avrebbe scritto dopo ad amare Dante non solamente come poeta ma come padre della nazione a quando risaliva questa lettura del sommo poeta all'epoca in cui Mazzini compose questo primo testo politico letterario il canone si era già formato oppure egli intravide e anticipò un uso pubblico di Dante che si sarebbe consolidato negli anni a venire e quale contributo una volta stampato quello scritto mazziniano dette alla consacrazione del poeta fiorentino come profeta della pace su questi aspetti sono usciti alcuni lavori in occasione del centenario dantesco del duemilaventuno ed io stesso lo ha ricordato il presidente Fiumian vi ho contribuito con un libro il sommo italiano Dante e l'identità della nazione che qui riprendo richiamo in alcune sue linee essenziali a cominciare dal debito che ritengo doveroso pagare con un grande storico della letteratura italiana Carlo Dionisotti e specialmente con un suo articolo apparso nel 1966 dal titolo varia fortuna di Dante Dionisotti 1966 nel tentativo di delineare le premesse storiche della celebrazione nazionale del settimo centenario della nascita di Dante avvenuta nel 65 e appena giunta a conclusione riconduceva quel tipo di manifestazioni cito alla religione laica democratica nazionalistica e storicistica affermatesi in Europa nel secolo scorso prima dell'ottocento osservava senza mezzi termini non se ne trova traccia ed egli citava infatti Dionisotti come iniziativa senza precedenti negli annali letterari la festa giubilare che si era tenuta a Stratford nel 1769 e non nel 1764 bicentenario della nascita per celebrare quello che egli definiva il primo poeta nazionale dell'età moderna Shakespeare che cito ancora tale fu da principio considerato per la insuperabile sproporzione fra il culto che gli veniva tributato in patria e il riconoscimento a denti stretti che gli era riservato altrove onde la qualifica nazionale che ancora era una limitazione di un poeta cioè che non poteva come altri della sua stessa nazione Milton Pope imporsi all'universale qualcosa del genere accadde anche per Dante fu sul finire del settecento che nella letteratura italiana percorsa da fremiti nazionalistici da competizioni che investirono la lingua e generi letterari piuttosto che gli autori si venne costituendo il canone dei quattro poeti maggiori Dante Petrarca Ariosto e Tasso oggi questo pare a noi un canone ovvio ma ancora verso la metà del diciottesimo secolo esso appariva tutt'altro che scontato era impensabile ci ricorda Dionisotti che mentre tutta l'Europa acclamava cito nel metastasio la vivacità e la preminenza dell'antica e nuova poesia italiana in Italia si proponesse una riforma della tradizione che escludendo il moderno metastasio facesse posto all'antico e discutibilissimo Dante accanto agli indiscutibili Petrarca Ariosto e Tasso la rivoluzione che sconvolse le consolidate gerarchie letterarie e la tradizione poetica dei secoli passati e che in breve convertì il quadrumvirato dei poeti maggiori in un principato dantesco come lo definì Dionisotti fu strettamente connessa con gli eventi politici di fine settecento ed inizio ottocento la rivoluzione francese i rivolgimenti del periodo giacobino e napoleonico la restaurazione e l'avvio del movimento risorgimentale furono queste vicende che portarono la lettera e cito la letteratura italiana in piazza e ne fecero l'insegna di una religione civile e nazionale si preste attenzione a queste parole la letteratura italiana portata in piazza e trasformata nell'insegna di una religione civile e nazionale quella di Dionisotti a quasi 60 anni di distanza è un'osservazione di grande acutezza largamente anticipatrice di cantieri di ricerca che la storia la storiografia sul risorgimento e sul farsi della nazione italiana avrebbe aperto solo con molto ritardo spostando l'attenzione dalle dinamiche politico-militari delle lotte per l'indipendenza all'analisi di simboli miti e riti che quelle rotte lotte resero concretamente possibili infiammando gli animi di migliaia di donne e uomini che attraverso di essi si convertirono al culto della patria e Dante ricorda ancora Dionisotti fu il poeta che in quei frangenti fornì le parole e gli accenti di una eloquenza insolita aspra vehemente quale pareva richiesta e di fatto era dalle circostanze straordinarie e dai compiti nuovi che la letteratura si trovava a dover assumere in una stagione come quella fra i due secoli che vide l'ascesa dalla cultura romantica e il manifestarsi di un nuovo culto dei morti e dei sepolcri non poco contribuì alla riscoperta di Dante anche il restauro della tomba della sua tomba che divenne meta a Ravenna di commossi pellegrinaggi la tomba fu ultimata nel 1781 nella versione tempietto neoclassico come noi oggi la conosciamo e fu riconsacrata dalla presenza delle ossa del poeta e che essa esercitasse una transione inusuale lo dimostrò con tutta evidenza Vittorio Alfieri che nel 1783 due anni dopo la conclusione della nuova tomba insomma fu tra i primi a renderle omaggio e scrisse nella vita di Bologna mi deviai per visitare in Ravenna il sepolcro del poeta e un giorno intero vi passai fantasticando pregando e piangendo fu Alfieri a stabilire un nesso indistolubile fra l'uomo Dante e la sua opera fra l'esemplarità dei valori morali e politici mostrata nel corso dell'intera esistenza e le vette sublimi della sua poetica letteraria nel trattato del principe delle lettere composto fra il 1778 e il 1789 egli anticipò la lettura patriottica del periodo romantico risorgimentale e tra coloro che riconobbero questo ruolo ad Alfieri vi fu oltre un secolo dopo Giosuè Carducci per Vittorio Alfieri scrisse Carducci Dante Nostro tornò quel che veramente grandemente anche fu un sublime un ardente un fiero e indomito amatore della sua patria della madre nostra Italia ai serva Italia cotesto e mistichio faceva rizzare i capelli ai nostri padri e le mani cercavano la carabina e incontravano le catene dei tiranni grazie all'Alfieri al Foscolo al Mazzini fu Foscolo oltre ad essere gli stesso protagonista principe di questo revival dantesco tra i primi a riconoscere i meriti dei Alfieri che non esitò ad accostare a quelli di Vincenzo Monti il tutto ovviamente nel quadro di uno zeitgeist trasformato in profondità dagli eventi rivoluzionari di fine settecento del quale il poeta di Zante aveva piena consapevolezza nel discorso sul testo del poema di Dante pubblicato a Londra nel 1825 scrisse per tutto il secolo scorso il settecento la poesia di Dante non trovò giudici competenti se non quando la gioventù crebbe preparata allo studio della divina commedia sì per le nuove opinioni che cominciavano a prevalere in Europa e sì per l'educazione che gli ingegni di Vittorio Alfieri e di Vincenzo Monti desunsero in guise diverse dal creatore della poesia e della lingua italiana il contributo di Vincenzo Monti alla rinascita del culto dantesco fu per molti aspetti decisivo qui mi limito a ricordare sul piano letterario il poema vasvilliana del 1793 con il recupero della terzina che fece parlare i contemporanei di un Dante non più relegato al ruolo di monumento bensì redivivo e ingentilito punto di riferimento prezioso della nuova poesia e letteratura un'autentica svolta però nella direzione di una popolarizzazione del culto dantesco si produsse nel 1798 quando fu proprio Vincenzo Monti nominato dal direttorio della Repubblica Cisalpina commissario amministrativo per la riorganizzazione della provincia di Romagna nei due dipartimenti della Mone e del Rubicone a promuovere un pubblico omaggio a Dante Monti arrivò a Ravenna la sera del 26 dicembre 1797 e appena tre giorni dopo vi inaugurò un circolo costituzionale proclamando per il 3 gennaio 1798 pochi giorni dopo pochissimi la festa in onore di Dante in tale occasione Dante fu dichiarato cittadino di Ravenna e la commedia portata in trionfo fino al sepolcro dove il busto del poeta fu incoronato dall'oro e altre poi altre cerimonie fu senza dubbio da quelle cerimonie del fine settecento che cominciò la tradizione celebrativa che ancora oggi dura e vi cito a riguardo ancora una breve citazione di Carlo Dionisotti si spiega che il criterio topografico prevalesse allora su quello cronologico che cioè la celebrazione avvenisse nel luogo dove un grande poeta era nato o morto indipendentemente dalla ricorrenza della data di nascita o di morte era un culto rivoluzionario promosso da uomini che non avevano tempo da perdere come gli alberi della libertà e il calendario repubblicano così quelle pubbliche celebrazioni miravano a rinnovare un sistema di vita che era anche nelle città strettamente regolato dalla religione tradizionale i santi patroni qui a Padova lo possiamo dire erano topograficamente non cronologicamente caratterizzati così i nuovi santi della religione civile e nazionale i poeti tutte le volte che rilego queste pagine devo dire Dionisotti mi appaiono veramente profonde anticipatrici di ricerche che molti di noi avrebbero intrapreso soltanto dopo certo è che la cerimonia Ravennate del 1798 rappresentò una sorta di introduzione a un secolo il diciannovesimo che attribuì al Dante al dantismo un ruolo centrale sia sul coté politico che su quello propriamente letterario colpisce in particolare l'ho già anticipato il processo di rapida e progressiva rimozione di Petrarca dal paradigma identitario nazionale la sua destituzione dalla plurisecolare funzione di padre riconosciuto e assoluto della nostra tradizione letteraria emblema della sua modernità ed eccellenza europea sul tema ha scritto pagine lucidissime Amedeo Quondam scrive Quondam è l'invenzione di Dante a distabilizzare il primato fino a quel momento il contrastato di Petrarca e a estrometterlo dal pantheon delle Itale gloria da allora Petrarca è il padre destituito e purato dimenticato perché ingombrante e imbarazzante scheletro di un passato che non deve più tornare da allora Petrarca è il simbolo di quello che l'Italia non vuole più essere come nazione e come cultura è il modello di poesia e di intellettuale da criticare di leggiare rifiutare è il simbolo del non italiano dall'altra parte Dante appare invece come il poeta civile è il politico militante è l'intellettuale angagé che ha pagato con l'esilio e la difesa oltranza dei propri ideali è un modello che si presta a un immediato riuso e consumo nel quale molti letterati e patrioti italiani di primo ottocento specie sul coté neo-ghibellino non faticarono a riconoscersi da Foscolo a Mazzini da Leopardi a Settembrini furono loro più di altri a contribuire alla costruzione del mito di Dante come profetico anticipatore di quell'Italia che si accingeva a risorgere e a stabilire una stretta correlazione fra esemplarità di vita ed esemplarità di poesia Foscolo si applicò in maniera sistematica allo studio e all'interpretazione di Dante negli anni da lui trascorsi in Inghilterra tra il 1816 e il 1827 tuttavia la passione per l'autore della commedia risaliva agli anni della giovinezza e ne offre conferma lode a Dante composta fra il 1795 e il 1796 o mio poeta o altissimo signor del sommo canto eccetera Foscolo Foscolo poi consegnò Dante lo sappiamo tutti ai versi mortali dei sepolcri i quali mandati a memoria di generazione in generazione avrebbero scolpito nell'immaginario collettivo l'icona imperitura del Ghibellin Pugiasco Foscolo riprese poi questa linea interpretativa nel già citato discorso del 1825 dove elaborò l'immagine di un Dante profetico che attraverso la commedia avrebbe espresso la necessità di una radicale riforma religiosa che purificasse la Chiesa dalla corruzione e dalle indebite ingerenze nell'ambito politico restituendo all'impero l'esclusiva competenza sulla sfera pubblica tornando a insistere sul Ghibellinismo di Dante Foscolo finì col dettare le coordinate di un'interpretazione laicista e anti-neo-wealth che in lui avrebbe sempre riconosciuto l'autentico capostipite ma soprattutto egli fece sì che l'identità profetica di Dante e la sua istanza di riforma spirituale della Chiesa si configurassero come riferimento valoriale di varie correnti politiche e culturali che proprio in quel periodo stavano cominciando la battaglia per l'unità nazionale i saggi inglesi di Foscolo furono subito tradotti e discursi anche in Italia dove ebbero vasta eco e dettero una spinta decisiva al processo di iconizzazione di Dante come padre della patria tra quanti presero parte a questo processo vi fu e con un ruolo di primissimo piano Giuseppe Mazzini anche lui come Foscolo si accostò giovanissimo a Dante e lo fece per l'appunto con l'articolo dell'amor patrio di Dante a cui ho fatto scendere in apertura vale la pena intanto di ricordare la curiosa vicenda editoriale di quel testo che Mazzini nel 1827 decise audacemente di mandare a una delle riviste più prestigiose del tempo una rivista di fasciato l'antologia di Giovanni Pietro via sé la rivista Niccolò Tomaseo che era magna pars della redazione non si avvalse nemmeno di referie esterni ritene il manoscritto inadatto per la pubblicazione non fosse altro perché per i suoi contenuti politici ben difficilmente avrebbe potuto ottenere il placet della più pur diciamo più blanda censura del gran ducato di Toscana tuttavia si guardò bene dal gettare lo scritto mazziniano e dieci anni dopo nel 1837 lo pubblicò anonimo come anonimo era stato spedito da Mazzini all'antologia nella rivista torinese il subalpino a Mazzini che proprio all'inizio del 37 già stato ricordato era rifugiato a Londra dove si guadagnava da vivere scrivendo per lo più di letteratura per giornali e periodici lo segnalò nel giugno 1838 la madre Maria Drago peraltro ignara che l'autore fosse proprio il figlio e Mazzini le rispose perbacco non v'ho mai vista così esaltata per questo articolo del subalpino e mi avete messo voglia di vedere questo scrittore portento merce in oggi molto rara in Italia converrà pertanto che io mi tenga la voglia perché né io ho mai veduto un solo numero del subalpino né qui v'è modo di vederlo è lungo questo articolo e non si conosce l'autore appunto su quell'argomento erano le prime pagine letterarie che io mi avventurai a scrivere da giovanissimo e che mandai all'antologia che non le inserì Mazzini riuscì a ricevere una copia del subalpino con il suo articolo sul finire di agosto del 1838 quindi a circa un anno dalla pubblicazione e subito ne scrisse alla madre appena vedute le prime parole dell'articolo mi sono ricordato è precisamente quel mio primo scritto di che vi dissi mi pare impossibile che esistesse ancora e che sia caduto nelle mani di quel giornalista comunque lo rivedo con una certa curiosità sono convinto che vanno ad essere errori massimi di lingua e di stile perché era naturale che io ne facessi a quell'epoca ma ho curiosità di vedere le opinioni e se sono le stesse che ho nel 1838 quale fosse il giudizio che Mazzini dava di questo primo saggio letterario e politico a distanza di una dozzina d'anni dalla sua stesura lo si ricava da una lettera da lui scritta nel marzo 1839 all'amico Giuseppe Elia Benza Tomaseo ha fatto male a mandare quell'articolo che io scrissi e mandai anonimo all'antologia che essa ebbe il giudizio di non inserire e che non mi sarei aspettato di rivedere oggi vera gridata da collegio senza un'idea e con più errori di fatto Piero Cironi nella sua bibliografia degli scritti mazziniani edita posto nel 1892 fu ancora più netto questo scritto è veramente giovanile contiene idee su Dante che l'autore non servò di poi Tomaseo trovò il manoscritto e lo inviò al subalpino senza dir niente all'autore in realtà mi sia consentito di prendere le distanze sia da Cironi che da Mazzini fatta salva la legittima presa di distanza da certi toni enfatici gravidi di turgori giovanili nei quali Mazzini evidentemente faceva adesso 1838 fatica a riconoscersi appieno la sua interpretazione del pensiero e dell'opera di Dante restava immutata e soprattutto non cambiava la finalità politica che egli attribuiva alla riscoperta e valorizzazione del sommo poeta come simbolo principe della volontà di riscatto della nazione italiana il 22enne Mazzini fin dal titolo evocava il trattato del 1820 dell'amor patrio di Dante del suo libro intorno al volgare Eloquio di cui era autore Giulio Perticari genero essodale di Vincenzo Monti con il quale Perticari aveva voluto onorare scriveva il più grande cittadino d'Italia e l'ottimo e certissimo maestro della nobile nostra favella quale fosse la lettura che Mazzini dava di Dante appare chiaro da alcune brevi citazioni che vi riporto del suo scritto in tutti i suoi scritti di qualunque genere si siano tra luce sempre sotto forme diverse l'amore immenso che i portava alla patria amore che non nudrivasi di pregiudizietti o di rancori municipali ma di pensieri luminosi d'unione e di pace che non restringevasi ad un cerchio di mura ma si bene a tutto il bel paese dove il si suona perché la patria di un italiano non è Roma Firenze o Milano ma tutta Italia e ancora più avanti Dante mirò a congiungere in un sol corpo l'Italia piena di divisioni e sottrarla al servaggio che allora minacciava più che mai quindi evocando e facendo proprio uno degli elementi costitutivi del culto dantesco che fu elaborato dalla generazione romantica ossia la connessione fra esemplarità di vita e vettù poetica Mazzini aggiungeva ben diremo che siccome egli siede e siederà gran pezza primo fra i poeti che durano eterni così la sua vita può presentarsi con tutta fidanza a modello di coloro che sanno cos'è patria e come essa vuole essere servita e quindi la famosa esortazione finale o italiani studiate Dante non su commenti non sulle glosse ma nella storia del secolo in cui egli visse nella sua vita nelle sue opere ma badate va più che il verso nel suo poema e per questo non vi fidate i grammatici e gli interpreti essi sono come la gente che ti secca cadaveri voi vedete le ossa i muscoli le vene che formavano il corpo ma dov'è la scintilla che l'animò avete voi un'anima di fuoco avete mai provato il sublime fremito che destano le antiche memorie avete mai abbracciato le tombe dei pochi grandi che spesero per la patria vita e intelletto avete mai versato una lacrima sulla bella contrada che gli odi partiti le dissensioni e la prepotenza straniera ridussero a nulla se tali siete studiate Dante da quelle pagine profondamente energiche succhiate quello sdegno magnanimo onde l'esule illustre nutriva l'anima apprendete da lui come si serva la terra natia finché l'oprare non è vietato come si viva nella sciagura o italiani non obbliate già mai che il primo passo a produrre uomini grandi sta nello onorare i già spenti su questo scritto giovanile di Mazzini valga per tutti il giudizio di Salvemini per il quale esso aveva cito nessun valore se vogliamo vederci uno studio di critica storica o estetica ma rivestiva cito ancora grande interesse come documento autobiografico cioè uno specchio delle convinzioni che Mazzini professava a 22 anni e che attribuiva ingenuamente a Dante non è il Dante della storia argomentava Salvemini è un Dante senza particolari storici caratteristici senza color locale ma è l'eroe di Mazzini è l'uomo che incarna l'ideale politico di Mazzini il quale con ingenua tranquillità attribuisce a Dante tutte le idee proprie dal mio punto di vista condividendo la valutazione di Salvemini l'articolo del giovane Mazzini ha un interesse formidabile ci dimostra con tutta evidenza che fin dal 1827 per uno dei principali artefici del risorgimento nazionale Dante rappresentava non più soltanto il grande poeta il creatore della lingua italiana bensì un mito un simbolo una bandiera da sventolare l'oggetto di culto di una particolare religione politica la religione della patria e che tali convincimenti fossero rimasti mutati nel tempo a dispetto di quanto riteneva Piero Cironi lo rivela chiaramente l'articolo che Mazzini scrisse nel 1841 per gli operai italiani emigrate a Londra pubblicato sulle pagine dell'Apostolato Popolare e qui vi cito appunto dall'articolo di Mazzini chi fu l'uomo il cui nome è fidato alle memorie di tutto un popolo che fece egli per la nazione che dopo cinque secoli e mezzo continua ad ammirarlo e a raccontarne il ricordo alle generazioni che verranno pochi tra voi lo sanno alcuni hanno udito che fu potente poeta e ignorano perché fu potente quali idee lo animassero qual fede lo dirigesse nei suoi lavori nessuno forse sa che fu grande soprattutto i grandi italiani perché amò soprattutto la patria e l'adorò destinata a cose più grandi che non spettano a tutti gli altri paesi nessuno sa che infelicissimo ramingo mendico Dante conservò intatto fino all'ultimo giorno il pensiero che dominò la sua vita e morì confortato cinque secoli addietro nella credenza che l'Italia sarebbe un giorno nazione e direttrice una terza volta la terza Italia dell'incivilimento europeo pure qual forza non aggiungerebbe alla vostra fede il sapere che il più grande intelletto di tutta Italia anzi di tutta Europa era credente nella credenza che noi predichiamo e tendeva allo scopo medesimo che noi oggi cerchiamo raggiungere era credente nella credenza che noi predichiamo e tendeva allo scopo medesimo che noi cerchiamo raggiungere le parole di Mazzini erano eloquenti e non lasciavano margini a dubbi nel 1841 raggiunta la piena maturità per Mazzini Dante restava quello che aveva infiammato il suo cuore nell'età dell'adolescenza e della prima giovinezza che aveva nutrito il suo ardore patriottico ancora adesso con la sua opera e con la sua esemplarità di vita esule tra gli esule Dante restava una stella polare per l'intero movimento risorgimentale che vedeva in lui per l'appunto riprendendo la definizione di Mazzini il profeta della nazione italiana nei lavori di Mazzini si è giustamente osservato non trovava spazio tanto una critica quanto piuttosto una religione dantesca senza filologia senza erudizione senza glosse Dante fu trasformato in una sorta di santo laico di quella religione della patria che fu l'autentico combustibile del processo risorgimentale e del resto in questo gioco di continui rimandi simbolici alla dimensione religiosa di cui fu pervasa la lotta per l'indipendenza e l'unità della nazione ce l'ha ricordato fra i primi Alberto Mario Banti se Dante venne evocato come il profeta Mazzini fu subito fin da subito presentato come l'apostolo questo approccio etico-politico caratterizzò anche gli studi successivi che Mazzini dedicò a Dante e soprattutto l'edizione della commedia con i commenti foscoliani a cui egli lavorò intensamente per circa due anni dopo aver acquistato il manoscritto dal libraio londinese Pickering i primi due tomi che costrinsero Mazzini a un impegnativo lavoro filologico videro la luce nel 1842 e furono preceduti da una prefazione nella quale egli riconosceva Foscolo di aver dato inizio al dantismo romantico a una lettura dell'opera di Dante capace finalmente di restituirci insieme al poeta anche l'uomo ai suoi tempi Foscolo scrisse Mazzini condusse la critica sulla via della storia cercò in Dante non solamente il poeta non solamente il padre della nostra lingua ma il cittadino il riformatore l'apostolo religioso il profeta della nazione l'interesse mazziniano per il sommo poeta non si arrestò lì anzi negli anni immediatamente successivi si estese alla sua intera opera letteraria e sfociò fra l'altro nel saggio dedicato alle opere minori di Dante apparso sulla Foreign Quarterly Review nell'aprile 1844 dall'insieme dei suoi scritti ha osservato Giovanni Spadolini emerge cito un'idea del valore di Dante che mai affrancata dal disegno di redenzione nazionale tuttavia appare ai nostri occhi come il tramite prezioso fra una tradizione erudita e alta del poema sacro ed una certo ancora acerba ed embrionale destinata a una vasta divulgazione e a una più vasta fortuna in quella memoria collettiva che gli intellettuali del risorgimento si apprestavano a portare in dote alla pubblica opinione dell'Italia Unita una testimonianza emblematica dell'impatto che gli iscritti danteschi di Mazzini ebbero sulla generazione di giovani che muoveva in quegli anni i primi passi nelle organizzazioni patriottiche ci viene offerta da Giovanni Ruffini il fratello di Jacopo morto suicida nelle carceri del palazzo ducale di Genova dopo l'arresto seguito al fallito moto insurrezionale del giugno 1833 Giovanni Ruffini che aveva condiviso col fratello l'affiliazione alla giovine Italia nel 1853 pubblicò a Edimburgo in lingua inglese un romanzo a sfondo biografico Lorenzo Benoni nel quale raccontava l'adolescenza gli studi gli amori e l'apprendistato politico di un giovane che iniziato alla carboneria restava coinvolto in una congiura e nel suo drammatico epilogo nel romanzo Ruffini rappresentò Mazzini sotto i panni di un personaggio Fantasio dal nome del protagonista di una commedia di Alfred de Musset scrive Ruffini debbo a lui se ho letto e gustato Dante veramente più e più volte prima di aver fatto la conoscenza di Fantasio avevo presa la divina commedia con la ferma intenzione di leggerla da cima a fondo ma presto fui scoraggiato dalle difficoltà avevo abbandonato l'impresa contentandomi solo di leggere quei tratti del gran poema che sono più famosi e più popolari in una parola avevo cercato in Dante il solo divertimento Fantasio mi insegnò a cercarvi il modo di istruirmi e di nobilitare le mie facoltà e Dio bevetti a larghi sorsi a quella sorgente di profondi pensieri e di generosi sentimenti e fin da quel tempo il nome d'Italia che così spesso ricorre nel poema diventò sacro per me e destò i palpiti del mio cuore è una pagina ci sto chiedendo è una pagina davvero eloquente che evidenzia assai bene attraverso il ricordo romanzato di Ruffini l'influenza che la lettura mazziniana di Dante come profeta della nazione italiana esercitò sui patrioti della generazione romantica ma i canali attraverso i quali si affermò questa peculiare declinazione del mito di Dante furono i più vari e ciascuno di essi raggiunse raggiunse ambiti sociali e politici diversificati altrimenti non si spiegherebbe come nel giro di pochi anni il sommo poeta riuscì ad affermarsi come il principale simbolo identitario di una nazione quella italiana che ancora esisteva soltanto nella fervida immaginazione di pochi intellettuali un notevole rilievo da questo punto di vista ebbero anche le performance teatrali di quello che negli anni 30 e 40 dell'ottocento poteva essere considerato il più famoso attore italiano vale a dire Gustavo Modena democratico di accesa fede repubblicana amico e seguace di Mazzini Modena nel maggio 1839 portò in scena al Queen's Theater di Londra conosciuto poi anche come Italian Opera House la prima delle sue dantate una particolare forma di spettacolo che lo vedeva impersonare Dante mentre componeva la divina commedia e declamava i versi delle cantiche accompagnandoli con commenti e riflessioni volti a chiarire il significato dei versi stessi e a renderli accessibili a un pubblico più largo è quasi superfluo sottolineare che nelle sue dantate poi replicate con successo nei teatri italiani negli anni seguenti Gustavo Modena calcò l'accento sul ghibellinismo del poeta esule facendo un strumento da un lato di esaltazione dell'identità nazionale dall'altro di irrisione del potere temporale della chiesa anche attraverso le performance di un fedele discepolo come Gustavo Modena Mazzini riuscì dunque a diffondere il mito del poeta fiorentino come visionario anticipatore dell'unità italiana nella prima metà dell'ottocento l'apostolo si trovò in buona compagnia da Foscolo a Leopardi a Settembrini da Balbo a Gioberti non vi fu alcuna famiglia politica che non interpretò la Ligieri come il più grande degli italiani ma certo Mazzini contribuì non poco a far sì che la figura e il mito di Dante si radicassero in profondità nel cuore dei democratici e dei repubblicani prima che gli eccessi nazionalistici del Tardo 800 e del primo novecento lo trasformassero in un simbolo della destra patriottica riscoperto dai cattolici e guardato con qualche sospetto dai partiti di sinistra grazie grazie davvero Pulvio effettivamente è interessantissimo andare a misurare la circolazione effettiva di questi testi era un popolo di avidissimi lettori però anche di materiali non così facilmente recuperabili quindi esiste tutto un mondo della trasmissione di questa attività editoriale tipografica eccetera che meriterebbe attenzione specifica dunque il programma prevede adesso una piccola pausa che si si dipende un po' possiamo democraticamente decidere scusate mi tolgo mazzinianamente possiamo decidere se vogliamo dare la parola e stanno finendo di preparare allora o apriamo una discussione su queste tre relazioni e poi facciamo la pausa e poi discuteremo la relazione finale cominciamo a dire qualcosa molto volentieri allora mi pare che tu abbia desiderio di prendere la parola prego presidente sono molto contento dei lavori di questa mattina perché ci sono state delle relazioni veramente interessanti a cominciare dalla relazione sulla sulla storia dell'arte di 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 questa trama di corrispondenze tra la moderna poesia ottocentesca e diciamo così l'idea di arte che si era fatto che si era fatto Massini e ci ha illustrato magnificamente come molti dei degli artisti del nostro ottocento erano in sostanza dei seguaci di 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 Massini della prima della prima ora e e questo sta a significare soprattutto il seguito che avevano le 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 idee massiniane e la circolazione che avevano soprattutto nei nei primi nella prima metà della dell'ottocento insomma quando ancora il il sentimento della rivalsa sulla sull'austriaco upante e le potenze straniere che che imperavano sulla sull'Italia avevano come dire mosso gli animi soprattutto dei letterati di artisti italiani interessante poi per me è stata anche la diciamo così la relazione sopra la relazione sopra la fortuna di Dante presso Mazzini in sostanza Mazzini aveva cominciato come letterato puro che poi insomma si era rivolto ad un'azione rivoluzionaria e non ha mai dismesso questo interesse letterario che si è come dire progressivamente alimentato nel tempo anche se poi l'azione politica l'ha portato su strade anche diverse ed è interessantissimo vedere come insomma la fortuna dantesca proprio cominci in qualche modo da da lui comincia da lui quella fortuna che fino ad allora o almeno nei secoli precedenti era stata a pannaggio di Petrarca quindi la storia anche di questa nostra accademia è fatto appunto di di riferimenti continui al Petrarca ci sono state numerosissime come dire sedute di letture di letture petrarchesche durante durante tutto l'arco dei secoli che vanno dal seicento in avanti mentre molto minori sono le sedute dedicate a Dante quindi questo è anche come dire lampante è vero lo abbiamo sperimentato anche qui d'altra parte noi continuiamo ancora con Petrarca perché è un nostro nome tutelare e da 40 anni teniamo delle letture dantesche annuali ecco Petrarca scusate e quello che è interessante è vedere come in questa in questa dimensione della diciamo così della visione di Dante come padre della patria come fondatore di un'idea di di Nazione sia assolutamente disgiunto da da quell'altro diciamo precursore della nostra unità nazionale che è il Machiavelli e il Machiavelli non compare nell'orizzonte eh ideale politico in qualche modo non ha questa stessa funzione e questo è facilmente spiegabile perché diciamo così eh il il eh Machiavelli è l'attore di una laicità in qualche modo contrastante con l'idea diciamo così eh della della divinità e dell'azione della divinità sull'unione di di Dio e e popolo che aveva in testa Massini insomma eh ho l'impressione che il realismo cinico di 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 Machiavelli non corrispondersi assolutamente alla alla all'idea dell'idealismo eh ma 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 questa è l'impressione che ho avuto dalle 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 da questa relazione di di Fabio di Fabio Conti ecco eh avrei tante altre cosette da da dire ma insomma mi limito a questo grazie grazie presidente e non so se qualcun altro qualcuno vuole intervenire prego sobalzani sì io volevo fare proprio delle 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 domande di curiosità come spesso succede quando si sentono delle cose molto interessanti come quelle di oggi la prima che riguarda la ehm diciamo il culto dantesco che viene acceso eh da Monti all'inizio del del 98 1798 a eh Ravenna segue di qualche settimana eh il questa specie di grande operazione che fa il generale Mioly a a Mantua una volta occupata eh di fare una festa per Petrarca per Virgilio ed è una grandissima festa virgiliana che fra l'altro anche ha una traduzione in una famosa incisione dei primi dell'Ottocento la festa di Virgilio a Mantua del 24 vendemmiaio dell'anno sesto mi fa e allora mi chiedevo eh se eh diciamo in questo caso si possa pensare dal punto di vista di Monti a una una qualche sorta di derivazione di una celebrazione dei grandi di tipo intellettuale per via rivoluzionaria cioè i generali rivoluzionari che hanno a loro volto un background di recupero della tradizione della cultura in questa forma popolareggiante trapiantano eh lo fanno a Mantua e questa cosa Virgilio Dante sono strettamente associati eh Vincenzo Monti capisce subito che questo è un argomento interesse che può funzionare quando si trova nella stessa condizione qualche settimana dopo lo fa a Ravenna mi chiedo se una cosa del genere possa stare in piedi la seconda cosa per quanto riguarda Perticari e quindi il questa specie di triade eh Monti Perticari figlia eh Costanza Perticari Giulio Perticari eh è relativa al fatto che nel 1821 a Roma eh c'è un tentativo di fare una specie di festa dantesca che però rimane una cosa completamente accademica e minoritaria ehm che eh traspare in alcune riviste di tipo letterario ma che non ha eh nessun esito paragonabile a quella del 1865 naturalmente e e allora mi mi veniva in mente eh di pensare che cosa di queste siccome naturalmente Mazzini è un frequentatore di Perticari che cosa queste questo tipo di diciamo allestimenti potremmo dire performativi di celebrazioni dantesche ante l'iteram che i Monti Perticari fanno fra il 1798 e il 1821 in varie forme possa avere in qualche modo influito sulla eh diciamo sul dinamismo del potenziale comunicativo dantesco nella fase diciamo in cui poi Mazzini lo prende in mano in una forma completamente rinnovata e molto più ovviamente militante questa è la prima domanda la seconda domanda rapidissima invece riguarda l'ARU cioè l'associazione dell'alleanza repubblicana universale perché eh giustamente l'ARU diceva che quello è un tentativo veramente un po' visionario di tenere insieme le due sponde dell'Atlantico eh dal punto di vista delle fonti o meno quelle che eh sulle quali ho studiato l'ARU a livello locale è sostanzialmente un'associazione parassegreta di tipo ultraradicale che viene vista come il la componente rivoluzionaria quasi militare dell'organizzazione dell'organizzazione mazziniana che sopravvive dopo il 66 67 allora mi chiedevo da questo punto di vista eh posto che questo è quello che si vede sulla scala estremamente locale che cosa del disegno internazionale invece realmente sopravviva grazie grazie eh ci sono altre domande allora eh mi pare una domanda o sì volevo fare prego poi vi facciamo risposta no è una domanda una riflessione su quello che diceva Fulvio Ponti eh su su Mazzini l'utilizzo pubblico diciamo di Mazzini che però eh mi sembra interessante perché da un certo punto di vista il Dante di Mazzini somiglia molto a quello che ci raccontava eh noi ieri sopra eh il Mazzini di De Santis cioè che eh da un lato e che c'è una tensione secondo me tra quello che è l'utilizzo pubblico che Mazzini fa in cui appunto l'articolo sul postolato popolare è l'espressione più significativa cioè Dante è il profeta della nazione italiana e pensava nel 300 le stesse cose che pensiamo noi e dall'altro il fatto che poi lui contemporaneamente lavora a quello che comunque è uno studio come dicevi anche tu filologicamente è piuttosto serio e praticoso dei quattro volumi non solo il primo è tutto dedicato al commetto ma il quarto volume è un lunghissimo elenco di variazioni di di varianti appunto diversi della divina commedia quindi è anche tutto sommato anche dell'amor patrio di Dante in realtà non solo si conclude con un invito ad uno studio che potremmo dire tipo storico filologico ma in realtà la parte che tu hai letto sul Dante che trascende le mura cittadine era preceduta anche di fatto dalla descrizione del Dante invece pienamente calato nelle lotte perché lui poi risponde alla criticare che Dante non è un poeta patrio perché in realtà denuncia appunto parla male di Firenze lui dice si parla male di Firenze proprio perché amava Firenze però è pienamente uomo di parte in questo senso in qualche modo appunto c'è l'idea che Dante va storicizzato anche se mi sembra che ci sia una tensione tra queste due letture di Mazzini il caffè caldo che è più importante grazie un corso oppure le interventi di caraccio dalla gruppo tre parole grazie